Continuando a parlare di televisione, adesso vorremmo condividere con voi telespettatori una bella notizia per la nostra emittente perché Rete8 diventa regina di ascolti. Nell'anno della pandemia, con la fame di notizie sul covid, si guardano sempre più spesso le tv locali. Regina di ascolti è Rete8, che dalla sede storica di Viale Abruzzo a Chietiscalo ogni giorno cattura l'attenzione di oltre 87.000 contatti. È quanto emerge dai dati degli ascolti Auditel del 2020, come leggiamo anche oggi sul quotidiano Il Centro, nell'articolo a firma del collega Pietro Lambertini. Le tv locali diventano un punto di riferimento per l'informazione contro il dilagare delle fake news che popolano internet e anche un luogo in cui si svolgono gli eventi simbolo delle città, come le processioni del venerdì santo. I dati media Auditel delle tv abruzzesi nel 2020 confermano un ruolo di primo piano di Rete8 nel sistema informativo locale. Gli abruzzesi si fidano delle tv locali Rete8 con 33 anni di trasmissioni dall'informazione allo sport fino alle maratone elettorali e alle dirette sulle manifestazioni d'Abruzzo guida la classifica tra rete ammiraglia e canale sportivo. Un dato in crescita che conferma le nostre sensazioni spiega anche il direttore di Rete8 Carmine Perantuono. Il terribile quanto inatteso cambiamento dei nostri stili di vita con il lockdown ha comportato infatti per noi operatori delle emittenze locali l'assunzione di una forte responsabilità sociale oltre che professionale nei confronti delle famiglie costrette a casa. La fedeltà e la costante crescita dei nostri telespettatori hanno premiato, dice il direttore Perantuono, il nostro modo di assicurare l'informazione, il bene più prezioso nel dilagare e pericolosissimo di fake news in ambito sanitario, favorendo un confronto diretto con le risposte dei medici e delle istituzioni e dando priorità e tempestività in giorni di disorientamento alle comunicazioni ufficiali delle autorità, prendendo per mano i telespettatori. Abbiamo ripensato l'intero nostro palinsesto, dice il direttore Perantuono, trasformando la tv in un luogo dove si svolgono le attività vitali della società non più praticabili in presenza, dagli spettacoli ai convegni e agli eventi religiosi. I riti della settimana santa in diretta ne sono l'ultima conferma. Televisione, internet e social network, il rapporto è sempre più stretto. La pagina Facebook di Reteotto, che ogni giorno rilancia notizie e approfondimenti, ha oltre 91.000 follower, più gli altri 15.000 di Reteotto Sport.